Pareggio a reti bianche al Vincenzo Savini tra Notaresco e Nereto, al termine di una gara molto maschia e dal canovaccio piuttosto chiaro. I rosso-bluidi e Epifani hanno attaccato e costruito diverse occasioni da gol, potendo sfruttare la superiorità numerica per tutto il secondo tempo. I rosso-bluidi e il grosso si sono difesi stoicamente e con ordine, portando a caso il risultato utile soprattutto per il morale. Con le immagini di Alessio Evangelista andiamo a vedere le alessie della partita. Pronti via ed il Notaresco sgusce via con Esposito, che salta a scatozza e lo costringe al giallo. Da calcio franco però, il numero 88 locale non c'entra lo specchio della porta. Decisamente più pericoloso Valenti, ancora da fermo, vola Palermo a deviare in corner. Dalla bandierina, il classe 91 cerca direttamente la porta, attento il portiere ospite. Da un'incertezza di Palermo però, nasce l'opportunità più grande per i padroni di casa. Il portiere classe 2000 si fa però perdonare su un tiro al volo di pesce. Dal punto di vista delle occasioni da gol le predominano Notaresco. Dorato prima spedisce fuori di testa da buona posizione e poi si lascia penutizzare dall'estremo avversario, a pochi metri dalla linea di porta. Il primo scurio del Nereto arriva soltanto al 35esimo, con un tiro di scatozza deviato involontariamente da un compagno. Sugli sviluppi della mischia conseguente, sventa tutto il Notaresco. Al rientro degli spagliatori si spacca subito il match in favore dei locali, perché esposito nell'uno contro uno è glaciale e costringe scatozza al doppio giallo, Nereto in inferiorità numerica. Sugli sviluppi del calcio di punizione, il fendente di Blando esce largo di un soffio. Il Nereto però si risistema e al dodicesimo si avvicina dalle parti di Shiba. Boito ha una buona chance, ma spara alto. Dall'altra parte è scatenato il solito esposito, soltanto in legno può dirgli di no, al termine di una strepitosa azione personale. Il pallone poi gli ritorna sui piedi, ma la nuova conclusione coglie solo all'esterno della rete. Con l'ingresso di Maio, Epifania ridisegna solo con un 4-2-4 attrazione spiccatamente offensiva. Alla mezz'ora in effetti il gol arriva ed è ne ho entrato Pampano, ma è tutto fermo per offside. Nel finale è tanto nervosismo e poche nitide occasioni. Il tiro di Blando, il quarantesimo, è troppo potente e non scende al punto giusto, mentre il calcio di punizione di Maio è deviato con i pugni e in corner da Palermo. Negli ultimissimi minuti di gioco non succede più nulla, gli assalti locali non sortiscono effetti ed il direttore di gara pone fine alla contesa. Il derby tra Rosso-Blu, Abruzzesi, termina 0-0. Purtroppo quando giochi quasi tutto il secondo tempo in dieci contro una squadra come il Notaresco è chiaro che c'è da soffrire. Abbiamo saputo soffrire e questa è la cosa che mi è piaciuta molto dei ragazzi. Devo solamente ringraziarli. Purtroppo i punti sono ancora pochi, però il morale è positivo. Sono due partite che non subiamo gol contro due ottime squadre. Noi ci crediamo, cercheremo di fare questo miracolo. Poi come andrà andrà, però è molto importante il pareggio di oggi. Purtroppo oltre ai Rossi ci sono stati tantissimi ammoniti. Una direzione che non contesto, però a volte si esagera un pochettino. Credo che abbiamo fatto tutta la partita noi. Abbiamo creato tante palle e gol, abbiamo creato tanti calciotani. Nel primo tempo potremmo fare di più, questo sicuramente. Però nel secondo tempo la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare. Aveva fatto anche gol, secondo me regolare. Ci dispiace. Un pareggio che dopo la sconfitta di domenica ci tenavamo tanto a vincere. Non ci siamo riusciti e dobbiamo andare avanti. A Vittorio si sapeva che piano piano la sua condizione cresce. Perché veniva da tanto tempo che non si allenava. Aveva avuto il Covid 15 giorni. Adesso inizia a stare benino. Con l'allenamento e col passare i giorni sicuramente migliorerà sempre. Non è che dobbiamo scoprire Vittorio Sposi. Sposi è un giocatore importante in questa categoria. Quando avrà le gambe a posto sarà un giocatore che ci farà fare la differenza.